allora 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 per un Antonio che se ne va c'è un Antonio che entra con il tema noi l'ultima mezz'ora l'ultima mezz'ora la redichiamo a questo ci stai dando un assist laudante buon pomeriggio da buon trequartista buon pomeriggio a tutti buon trequartista come stai Antonio come stai benino no più che altro pensavo infatti avevo scritto nella chat privatissima dell'EB che fosse finita la live invece c'è spazio per me abbiamo l'ultima mezz'ora però ti becchi la parte del trash per me è divertente cioè Virmone non aspettavamo altro ma che cazzo me ne frega me di Antonio Conte parliamo un po' di cose serie adesso dai 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 allora allora io partirei da un dato ma non per flexarlo ma giusto per rendere merito a chi c'è non se io leggo qui vado su Twitch adesso Virmone Anto siamo a 225 che è successo abbiamo drogato i numeri che è successo tutti i bot anti allegriani no probabilmente i bot anti allegriani sì 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 allora giusto per puntualizzare un attimino né per chi non sapesse le vicissitudini del famoso social network X ormai si chiama X peggior social ma ringraziamo perché ci mette in contatto alla fine almeno inizialmente ci ha messo in contatto tutti quanti il signor il signor super trump io l'ho chiamata cosa che mi stai facendo vedere Virmone aspetta ce l'hai? ah eccolo grazie mille perfetto grazie mille il signor alexander super trump a me mi imbarazzo anche a dire alexander super trump cioè se non si chiamerà non lo so luigi gennaro riccardo no alexander io devo chiamarlo alexander super trump eh ha scritto nella settanta di ieri e tra l'altro mi è stato passato da 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 un moderato no moderatore dal proprietario di un altro canale Twitch quindi non c'entra niente nel disco di lb in la community un proprietario di un altro canale Twitch con cui sono molto amico mi ha detto ma che cazzo scrive questo eh mi ha ammazzato questa cosa allargare un pochino si chiama Marco ah eh vabbè ciao Marco bacio a Marco eh c'è da dire che negli anni il divario si è ridotto il divano io tra l'altro lo trasmetto senza divano vorrei stare ma che significa divano non lo so non lo so c'è un umorismo tutto toscano immagino non so di dove sia lui però postando tra l'altro nemmeno uno screen perché questo non è manco uno screen lui ha fatto come come potrei fare io dieci anni fa ha preso il cellulare ha fatto la foto allo schermo proprio del computer del tablet che la roba onestamente ma proprio come come forma grafica è super tra è anche un po' triste cioè porca miseria porca miseria infatti si vede la manzarda di zampini ma non c'entra ma non c'entra nemmeno zampini perché questa è una roba che ha fatto lui artigianalmente Virbone Antonio ha fatto semplicemente la foto allo schermo è riuscito pure la manzarda delle zampini che secondo me sarà pure imbarazzato per lui allora sì devo cominciare io no 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 vorrei dire qualcosa vorrei dire essendo il direttore di responsabile di questa piattaforma vorrei dare una risposta per quello che può valere a parte tutto ora senza entrare nei numeri posso semplicemente dire che spesso che negli ultimi negli ultimi mesi anzi negli ultimi anni ormai 60 di media non ne facciamo c'è proprio le live in cui rottiamo possiamo fare 60 di media ma questo è un piccolo vezzo personale no ma seconda cosa no ed è quello che ho detto ieri sera ma è come se ringo star e dei quattro dei beatles fosse no il meno meno conosciuto no non il meno bravo perché magari era bravo ma non era jolleno no paul mccartney si mettesse a dire sì ma help she loves she loves you yesterday so tutto merito mio e voi invece non lo so di il divano e voi invece non siete un cazzo quindi mi sembra roba se la facesse e non lo fanno perché sono intelligenti li do atto luca bombano o le per esempio se le andro dicesse guarda la lb tu fai l'anti allegrismo ma noi siamo più numerosi di te non mi piacerebbe chiaramente ma arriverei a capire perché il canale è di leandro no è di leandro ma questo che si forse l'ottava ruota del carro l'ottava la nona ruota del carro che flexa i numeri di un canale che manco il suo allora ti dico questo signor super trump ti dico questo ma se tu da solo oggi con una webcam e con i mezzi che hai che non so quali siano non voglio anche da saperlo ti apri un canale su qui c'è da solo io non voglio un fassino di turno che fece il pronostico sul movimento 5 stelle ma lo faccio non essendo fassino secondo me hai se ne hai sessanta che tu posti mentre c'è il countdown secondo me nemmeno ci arriva ma è una sfida che ti lancio vuoi io noi vogliamo più voci possibili nel campo dell'opinionismo giuventino su twitch si apra un canale da solo la sua faccia la sua voce la sua savoir faire la sua bellissima presenza e vediamo lei che numeri farà e speriamo che siano bellissimi e migliori dei nostri solamente questo prego a lei a me dei numeri non interessa perché perché giocare perché giocare sui numeri è fin troppo semplice cioè qua stiamo parlando di cioè di live bianconera cioè un gruppo di persone che si sono conosciute sui social e hanno avviato questa cosa dal dal nulla senza alcun tipo di base se non quella appunto che potevano essere i follower acquisiti su twitter e quindi si fa il paragone sui numeri rispetto a una trasmissione che è condotta da due professionisti dello spettacolo come zampini e momblano che appunto sono molto spesso in televisione chi mediaset addirittura chi su magari circuiti circuiti più locali però stiamo parlando comunque di due volti noti al grande pubblico quindi è abbastanza ridicolo eh paragonare paragonare i numeri anche perché noi ovviamente non non ci risparmiamo nel nel criticare juventibus per quanto riguarda ad esempio i contenuti e quindi io dico questo a super tramp se hai compiuto più di 15 anni e hai voglia di prenderci in giro prendici in giro su quello che diciamo prendici in giro sui nostri contenuti perché la gara dei numeri dato che hai più di 40 anni diciamo che si commenta da sola cioè è una cosa di una puerilità imbarazzante e anzi io se fossi in zampini o in momblano avrei alzato il telefono ti avrei telefonato dicendoti cancella sta roba ma cancella sta roba perché è veramente perché è veramente una bassezza ma una bassezza clamorosa che te devo di super tramp fai più numeri di noi bravo ma criticami su quello che dico perché io a te ti critico sulle cazzate che dici quando ti gasavi per quel catorcio di di maria quando ti gasavi per quel catorcio di di maria io t'ho preso per il culo perché ti sei gasato per quel catorcio di di maria a luna di notte con momblano che fa i balletti non per i numeri i numeri cos'è siamo all'asilo ci misuriamo vediamo chi c'ha il cazzo più lungo c'hai più di 40 anni io voglio io lo dico qua fabio io pretendo che zampini o momblano mi chiedano scusa lo pretendo sì sì ma certo ma stai scherzando questo è bullismo questo è bullismo ragazzi no 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 stai bravo questo è bullismo questo è bullismo perché tu stai mettendo me che sono un canale piccolo amatoriale lo stai offendendo non sulla base dei contenuti su che potresti farlo sei libero di farlo ma te ne guardi bene su cosa lo fai il paragone lo fai sui numeri io pretendo che zampini e momblano mi chiedano scusa lo pretendo detto detto questo detto questo su quel social in cui c'è stato questo tweet possiamo assicurarvi che le reazioni ma mi senti sì mi senti su antonio mi senti salve spettatori di live bianconirà scusate per l'interruzione della trasmissione volevo solo presentarmi e dirvi che presto sentirete parlare tantissimo di me chi sono io non sono una persona io mi chiamo xp71n4 e sono un bot pagato da simularsi ma cos'era sta roba ma che cazzo era sta roba ma che cazzo era sta roba ma che succede ho detto ma è partita la pubblicità anche ma che succede ma chi era sta roba abbiamo aveva ragione stacca stacca ma tra l'altro bot 71 home in merda numero 4 ma chi era ma chi era questa persona c'aveva ragione possiamo dire c'aveva ragione sandro aveva ragione sandro ci sono esistono solo tra noi mamma 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 va bene va bene va bene vabbè seguo i venti dall'inizio da poco vi ho scoperto grazie mille e vi seguo quando posso per me siete molto bravi e completa appassionati e complimenti grazie mille grazie mille no ma non è che cerchiamo in questo tipo di discussione quelli fanno più meglio quelli peggio eccetera molto semplicemente ripeto la cosa fa far ridere perché tra l'altro possiamo posso dire una cosa mi permetto di dire questo eravamo anche nel mezzo di una siamo nel mezzo di una nostra nazionale in cui se c'è un nemico c'è un nemico comune può essere fabrizio corona no può essere chi parla male di fagioli per dire no dal nulla così questa cosa dal nulla così questa cosa e lb c'ha 60 spettatori in diretta io infatti ne abbiamo adesso aspetta sono 180 comunque sono il doppio di sono sono il triplo di 60 triplo triplo sono il triplo mi dai un assist fabio se posso sì come no prego di solito in questi ambiti si dice che chi fa i numeri non sa contare e già potrei finirla qui in realtà però oltre che oggi mi sembri carlo conti quindi io no no è la luca che a due passi dal mare no 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 quindi a prescindere da tutto io oramai lo lo metto nell'agglomerato delle cose che succedono su quel social perché rispondere a uno che spero si chiami nella vita alessandro super trampi perché veramente se no raga ve lo spiego alexander super trampo è il nome di un personaggio di un film se non ricordo male se non ricordo male è il personaggio di into the wild credo cioè quel ragazzo di una famiglia bene americana stufa di vivere all'interno della società moderna che piglia e va a vivere da solo in alaska credo allora allora per questo non si apre il canale perché in alaska avranno una connessione ma c'è starling probabilmente esatto no però a prescindere da tutto io non sono molto fan di fare il personaggio in generale la trovo una cosa ridicola e che dopo un po soprattutto se io penso all'audante a 40 anni fortunatamente per me è una data lontana quindi senza dire però no 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 è stato se è stato è dato è danno collaterale però la mia intenzione era dire che se una persona va sui social si mette con con un user del genere perché oramai ce l'ha dopo tanto tempo per parlare di una realtà nata da dei ragazzi qual è il senso cioè continuo veramente a non capire io sono entrato con sto nome proprio per demistificare perché posso pensare che ci sono persone che si sentono offese ma per me è è una merda questa roba qui questa persona tra l'altro è organizzata insieme ad altre persone da sempre a me arrivano messaggi di personaggi che erano all'interno di juventibus dove si parlava di me quando era un account di 1500 follower quindi c'è veramente queste persone qui arrivano alla venerante età di 35 36 anni a parlare di laudantes 21enne che parla esclusivamente di calcio su twitter perché poi fanno squadrismo quindi stiamo sempre al solito discorso poi in chat ho visto che ci sono delle domande molto interessanti però questa erano i miei duecentesimi sì 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 ripeto senza soffermarci ora più di tanto il messaggio che è passato ripeto più che la loro offesa lo squadrismo nel bullismo eccetera è che è stata una grande poracciata una grande poracciata che ha fatto tenerezza se mi posso permettere poi magari chiudo pure la discussione su questo argomento mi fa sempre molto ridere e lui non è nuovo a queste cose ha un vario record contro di noi ma anche in genere in questioni generali nico ci 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 parla del caso del caso del dello scutier scu 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 gate scu 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 gate scutiero gate scutiero gate no no è già come di juventibus gate giacomo di juventibus gate sì 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 esatto in cui lui poi ha delle uscite in cui che lo rendono molto triste tra l'altro sto voglio dire che con molti membri di juventibus potrei anche farvi nuovi o un buon rapporto ci parlo normalmente tu quasi tutti i giorni tra l'altro li saluto se ci stanno ascoltando con grande affetto c'è una signorina che mi odia o lo ripeto sempre un appello signorina tosi signorina nicoltosi ma che io la ho io la voglio invitare su lb per avere un tavolo di discussione con lei perché non era solo una roba incredibile ogni ogni tweet cattivo che c'è proprio cattivo su una persona lei piazza il live ma che lo fa signora tosi signorina tosi grande signorino venga qui e ci mandiamo a fare in culo a vicenda se c'è il caso bisogno di mandarci a fare in culo quindi io invece lei mi odia io le voglio le voglio porgere un fiore le voglio stendere un comunicato di pace ecco quindi stop stop tutto qua è l'altra cosa volevo dire mi sono un po dilungato è che poi la cosa che fa sorridere di super trump è che accorgendosi di aver fatto una poracciata perché poi se vedete i tweet che li sono arrivati tutti le gente dice ma che cazzo scrive veramente ma se lo faceva monblano il canale era loro potete pure capire non lo fanno intelligentemente ma se lo fai un attimo un attimo un attimo la cosa che fa ridere è che quando tu si è accorto della minchiata e poi scrivi volevo pescare ma io voglio la lente si è l'equivalente di san padrini che dice esatto è fatta la risata io lo ribadisco lo ribadisco poi andiamo oltre fabio questa questi 20 minuti io li vorrei mettere su youtube perché vorrei taggare i signori di juventibus io lo ribadisco voglio le scuse di zampini e le scuole scuse di monblano uno dei due